Musica Benvenuti a Capitani Coraggiosi, domande potenti per leader audaci. Un viaggio tra i top manager contemporanei per scoprire come governare le organizzazioni e mantenere la rotta nei mari tempestosi in cui ci troviamo, imparando l'arte di porsi le domande giuste e porre le domande giuste al momento giusto. Io sono Maria Cristina Origlia e sto per incontrare Valeria Brambilla, da circa un anno amministratrice delegata della società Deloitte Entouche, la società di consulenza e di revisione contabile del gruppo Deloitte, uno dei più grandi gruppi a livello globale nei servizi professionali per le imprese. È presente in Italia dal 1923 su tutto il territorio nazionale con oltre 13.000 professionisti. Valeria, lei è diventata la prima donna ad essere amministratrice delegata di Deloitte Entouche. Che effetto le ha fatto e se l'aspettava? Sono molto orgogliosa di essere amministratore delegato di una organizzazione dove ho dedicato passione, tempo, commitment per oltre 25 anni in vari ruoli. Sono anche molto orgogliosa di essere la prima donna del network Deloitte in Italia ad essere amministratore delegato. Ma devo dirvi, devo dirti se posso darti del tu, che questa organizzazione a cui ho dato tanto mi ha dato e mi sta dando tanto sotto un profilo professionale e anche umano. Ecco, proprio su questo fronte, qual è lo stile di leadership che intendi portare a una prospettiva di genere o non pensi che ci siano prospettive di genere nell'ambito della leadership? Io credo che la leadership debba avere due pilastri fondanti, qualunque sia il genere, che stanno nel rispetto e nell'etica. Questi sono i due pilastri su cui ogni leader deve fondare il proprio operato. A cui si aggiunge la coerenza, perché la coerenza dal mio punto di vista è il presupposto per l'autorevolezza, non l'autorità, ma l'autorevolezza e la credibilità di ogni azione che poni in essere. È chiaro che questo è tanto più forte in un'organizzazione come la nostra, che è un'organizzazione professionale fatta di capitale umano e fatta di persone che hanno un'età media di 31 anni. Quindi il 90% circa delle nostre persone appartengono alla categoria dei millennials o addirittura alla generazione Z. Quindi sono generazioni che associano, oltre all'importanza dello sviluppo professionale e anche della carriera, che è fuori discussione, che continuano comunque ad essere dei valori importanti anche per i giovani, però associano la rilevanza dello star bene, che diventa altrettanto importante allo sviluppo professionale e di carriera che tu gli assicuri. Quindi secondo te qual è la domanda più importante che un leader dovrebbe porsi oggi? Dove sta andando il mondo? Ma non perché ho la presunzione che l'organizzazione aziendale possa anticipare il cambiamento, ma semplicemente perché se capisco e se osservo quali sono i grandi trend e dove si sta indirizzando il mondo, io riesco a preparare l'organizzazione per quei cambiamenti. Ed è essenziale la velocità del cambiamento al giorno d'oggi. Quindi se l'organizzazione è già pronta verso determinati trend, è chiaro che resti competitivo perché sei molto più veloce ad adeguare la tua organizzazione a quel cambiamento. Questo è il look forward che è sempre nella mia testa, ogni giorno. Nel tuo mandato fino al 2027 tu hai dichiarato di volerti ispirare a quattro pilastri. Oltre a confermare naturalmente l'altissima qualità del servizio di Deloitte & Touche e la crescita economica che ci vuole sempre, ci sono altri due pilastri molto interessanti che vorrei commentare con te. Il primo è quello della crescita bilanciata. Che cosa significa? La crescita è necessaria per far fronte al mondo che ci aspetta, soprattutto in organizzazioni molto grandi perché la crescita è opportuna per finanziare gli investimenti. Quando parlo di crescita bilanciata la intendo bilanciata nei confronti dei rischi. E quali sono i rischi di due tipo? Uno esterno e l'altro interno. Cioè il rischio esterno è il rischio che viene dal tuo portafoglio clienti. Quindi indirizzare la crescita verso quel mercato che ha un rischio moderato. Anche per la tipologia di lavoro che noi facciamo. L'altro rischio è quello interno perché la crescita presuppone l'adeguamento dell'organizzazione interna. Che nel nostro caso è fondamentale se uno vuole garantire gli standard di qualità di eccellenza che noi siamo chiamati a dare al mercato. Quindi occorre che alla crescita sia sempre associata un'adeguata analisi che noi chiamiamo di capability. Quindi di inserimento di nuove risorse ma anche di formazione e promozione delle risorse esistenti. Ecco proprio sul tema dell'organizzazione e dei nuovi modelli organizzativi. L'innovazione tecnologica ci sfida in continuazione. In particolare l'intelligenza artificiale generativa sta in qualche modo facendo porre delle domande nuove a tutte le organizzazioni. Nel vostro caso come pensate di sfidarla? Allora nel nostro caso di nuovo vediamo la trasformazione, chiamiamo la transformation, la chiamiamo che la digitalizzazione. Cioè affrontare la digitalizzazione anche qui sotto un doppice profilo interno ed esterno. proprio per la tipologia di attività che facciamo. Perché dobbiamo affrontare la digitalizzazione nel senso di offrire dei servizi, cioè avere un offering che sia sempre più digitalizzata perché è il bisogno dei clienti che chiedono appunto consulenza, in questo caso di carattere contabile, però con forte digitalizzazione. Quindi dobbiamo inserire competenze e modalità di offering sempre più digitali. Quindi cominciamo ad inserire nell'ambito delle nostre risorse, non solo risorse con competenze economico-finanziarie e funzionali, ma anche una serie di competenze ingegneristiche e che provengono da quelle che sono le discipline STEM. Dall'altra parte stiamo formando, stiamo avviando un programma di formazione verso lo sviluppo di competenze sempre più ingegneristiche, sempre al nostro interno, per preparare tutte le nostre risorse a una sempre maggiore digitalizzazione e fruizioni dei servizi, anche in vista di quello che sarà poi l'avvento dell'intelligenza artificiale. Certo. Qual è la domanda che ritieni più importante porre ai tuoi collaboratori e quella che vorresti che loro ti ponessero più spesso? Ai miei collaboratori più stretti, quando ho un tema rilevante, pongo sempre loro la domanda tu cosa ne pensi? In quanto mi interessa il loro punto di vista, è un team molto diversificato, questo mi dà un grande valore perché il loro punto di vista mi consente di avere un overview di tutte le implicazioni che un tema rilevante può avere e quindi consentire poi auspicabilmente di prendere la decisione più opportuna. Per quanto riguarda invece la domanda che vorrei che loro ponessero invece al middle management, chiamiamolo così, è quale valore aggiunto tu pensi di poter dare a te stesso e anche all'organizzazione che stai vivendo? Perché sono convinta che le due cose debbano andare di pari passo, solo in questo modo le persone riescono a dare il massimo nell'organizzazione in cui vivono. Per quanto invece concerne la domanda che i miei collaboratori stretti rivolgono a me, come mi puoi aiutare nel perseguimento dei miei obiettivi? Che sono i nostri, che sono i nostri. Fare la differenza per le vostre persone, per i clienti e per anche la società italiana è quello che voi definite il vostro purpose. Che cosa vuol dire fare la differenza per i vostri clienti? Vuol dire portare valore aggiunto ai clienti con il nostro servizio. Si porta valore aggiunto con servizi di elevata qualità, però associata anche alla qualità delle persone che svolgono questi servizi. Dei pilastri del mio mandato, il primo, senza ombra di dubbio, è l'excellent in quality, intesa non qualità tecnico e professionale, che è sicuramente scontata, ma a cui si aggiunge la culture of quality, che è la cultura della qualità nelle persone, che è un concetto più esteso. Certamente. E che cosa vuol dire invece portare un contributo al paese? Io credo che ogni società, soprattutto di grande dimensione, ha un'influenza sociale e ce l'ha tramite le proprie persone, perché i messaggi, i metodi, il purpose che noi trasferiamo ai dipendenti si trasferiscono nella società e poi a loro volti i dipendenti per una proprietà transitiva li trasferiscono anche le relazioni che hanno. Dall'altra parte, un'impresa porta un'influenza sociale significativa tramite le modalità con cui svolge il proprio lavoro e, in particolare, la nostra ha una valenza sociale molto rilevante. In qualità di società di revisione pensiamo che tutte le decisioni degli investitori e dei mercati finanziari vengono prese, anche tenendo conto quello che noi scriviamo ogni giorno. Quindi la responsabilità di questa influenza, chiamiamola sociale, lo abbiamo presente ogni giorno in cui lavoriamo. Qual è la domanda più visionaria che, secondo te, la vostra azienda dovrebbe porsi? Io credo che la domanda più visionaria sia quella di creare una legacy, un'identità in modo che il mondo interno ed esterno, quando pensa al nostro brand o alla nostra società pensi ad una determinata identity, una determinata legacy e questo contribuisca a creare nelle persone un forte senso di appartenenza che contribuisce anche poi a fornire di nuovo quella qualità di servizi che accennavo prima. Se dovesse associare al concetto di identità e di legacy una parola? Trust. Fiducia. La fiducia, fiducia in chi ci sta a fianco, fiducia che noi diamo ai mercati, fiducia che i clienti ripongono su di noi. È un'unica parola potentissima. Che dice tutto. Sì. Grazie Valeria Brambilla di essere stata con noi, Capitani Coraggiosi. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a te, grazie a te.